Numeri alla mano, si può raggiungere l'immunità di gregge entro un mese e mezzo. L'asla di Salerno vede più vicino il traguardo sanitario. Con altre 30.000 persone vaccinate, con prima e seconda dose, si potrebbe mettere in sicurezza il territorio. Anche per questo si punta ad accelerare la campagna vaccinale, mentre è partita quella che vede protagonista il camper mobile nelle località turistiche. Oltre 1.000 somministrazioni ai vacanzieri al porto di Marina di Camerota. Ci troviamo qui a Marina di Camerota, abbiamo iniziato questo tour dei vaccini per i residenti campani e somministriamo prime e seconde dosi Pfizer, Moderna, AstraZeneca e abbiamo anche Johnson. Dobbiamo somministrare un quantitativo di circa 1.200 dosi al giorno di varie tipologie di vaccini. Siamo pienamente soddisfatti di aver dato la possibilità a centinaia e centinaia di turisti di avere la seconda dose direttamente a Marina di Camerota senza la necessità di ritornare nel proprio paese. Ma la guardia resta alta, cava dei tirreni a lutto per la morte dell'imprenditore 73enne Luciano Vatore. Fatali le complicazioni respiratorie dopo aver contratto il Covid, nonostante la doppia dose di vaccino. E proseguono anche i controlli dei carabinieri del NAS negli stabilimenti balneari, multati titolari di due lidi a Ponte Cagnano per carenze igienico-sanitarie, contestata anche la mancata sanificazione dei locali.